I dipendenti della raffineria di La Pampilla, proprietà della spagnola Repsol, sono al lavoro per rimuovere il petrolio che si è riversato su una spiaggia di Lima. La fuoriuscita è una conseguenza indiretta dell'eruzione vulcanica a Tonga. Le forti onde causate dall'esplosione hanno attraversato il Pacifico, provocando la perdita durante le manovre di scarico di una petroliera. La chiazza copre circa 3 km di spiaggia.